E salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video Oggi vi porto fortnite, si vi porto fortnite perchè non mi ricordo quanti mesi fa forse 6 mesi fa, era settembre forse quindi più o meno Non ho il tuo bello logo, sbatti di contare Quindi si più o meno 6 mesi fa lo portai, sembra il primissimo in Italia non per vantarmi ma perchè Se non mi sbaglio il video che l'ha portato agli italiani, questo gioco in battle royale E' stato quello di Yotobi che l'ha pubblicato il 29 settembre, io l'ho pubblicato il 13 Quindi ho tutto il diritto di portare fortnite, non per le views Perchè ci avesse un milione di iscritti allora va bene, c'erano 1200 quindi le views i soldi non me li danno Quindi viva la vita Comunque niente, ve lo voglio riproporre anche perchè ci gioco tanto Ci gioco tanto e mi va di riproporvelo il gioco bello 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 Anche perchè è fatto bene Cioè se la gente mi chiede pubg o fortnite, dico fortnite Quindi insomma secondo me è fatto anche bene, meglio di pubg 40.000 volte meglio Quindi niente, dai ci vediamo in game Ok eccoci qua Dove ci si butterà? Io di solito mi butto qui Insieme al super alienato, già giusto In descrizione, madonna non mi funziona più il telefono Ottimo Comunque in descrizione troverete il link al twitch di alienato che lui fa spesso fortnite Quindi se volete vedere fortnite andate da lui Comunque io per magari chi è arrivato ora nel canale o da poco Quando ero più piccolo di adesso avevo fatto anche un video sul fortnite normale Già lì ci ho speso una caterba perchè mi manca solo l'ultima versione che costa 100 euro in più Quindi insomma diciamo che ci ho giocato tanto nella versione prima di questa qui E devo dire che comunque essendo free to play Cioè alla fine secondo me il tutto se lo sono pagati facendo i soldi Sia con le skin ma anche per tutta la gente che aveva comprato quello prima Tutte le varie versioni eccetera Quindi insomma Eh essendo free to play è fatto bene Allora come sempre all'inizio i server fanno schife Ok esplosora Allora sicuramente non vincerò Perchè ho vinto pochissime volte Si contano su una mano sola Però anche prima Sono arrivato Mi sembra quarto Quinto Non lo so Perchè Mentre uno stava facendo una torre Io gli sono andato sopra L'ho iniziato a smasciullare Quando tiro fuori la mitraglietta per finirlo Cosa fa? Prima che io tiri fuori la mitraglietta Questo tira fuori lancia razzi e ammazza entrambi Quindi Insomma Testa di merda Eh Qui c'è già stato qualcuno Poi parlando delle live Tanto questo Eeeh Video uscirà Dopo la live Perchè oggi è domenica Quindi alle Per me è domenica Per voi non so Quando è Eeeh Intanto c'è uno lì davanti Che con questo Lo liscio tantissimo Dicevo no Che con quello Lo lisciavo tantissimo Bravo Bravo Allora Prendiamo queste cose Prendiamo la granata Eeeh 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 Madonna 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 ma tutti c'hanno lo scudo a 100 Scusa Amico Eeeh 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 Fate schifo a fare sta cosa Era lui? Eeeh Sì Sotto le scale Fa un culo mondo Ok Bene dai Le nostre prime due kill Così Un Vabbè piuttosto da culo eh Devo Dovrei aggiungere Oddio Eeeh Prendo queste Questo che non ho altre cure Altri scudini Non mi verrebbero schife Poi molta gente Come con minecraft O giochi cartoneschi Cosa e bla bla Dicono che sono giochi per bambini Eeeh Roba del genere Va bene Sì Però il fatto è che Prima che era Prima che non è Era in Battle Royale Free to play Non c'erano bambini Eeeh Poi Adesso Comunque gioco con gente Che c'ha 30 anni Tipo Hamlet Ciao Hamlet E anche di lui Trovate il link Del Del Twitch In descrizione Anche se adesso Non fa molto Stream Però giusto Mi sono dimenticato Che Vi dico giusto Velocemente Un accenno Ci sarà un torneo Di escape from Tarkov Organizzato da lui Eeeh Entro fine marzo Quindi Insomma Stay tuned Poi farò un video Farò un video Con lui Dove vi spiegherà Come funziona Eccetera Allora io sinceramente Sono senza scudo Quindi In 3 secondi A me Mi ammazzano Mi servono letteralmente 4 colpi Quindi Uno scudo Un qualcosa Vi prego C'è roba verde Legno Che non fa mai schifo Colpi Che non ci fanno schifo Per niente Questi ci spaccano Perché ci danno Un botto di legna Per spaccarli Con un colpo Ok Legna va bene Così Ok Di qua si va Giusti Andiamo a tomato Vediamo se ci fosse Qualcosa Eeeh Giusto Vi volevo parlare Delle live Che forse Prima ho visto C'era un player Non lo Non ve ne ho parlato E Ma è arrivato ora Lui Ah aveva anche armi Ok Eeeh Prima non ve l'ho detto Che Stavo pensando A portare Far Cry 5 Che il 27 Uscirà E quindi Volevo fare Che con La live La live Dovrebbe uscire Quindi il 25 Dovrei farla Di domenica Ma visto che c'è Far Cry 5 Che esce il 27 Vorrei Portare Far Cry 5 In live Anche quello Perché comunque In live farò Adesso Soltanto giochi Single player Perché se farò Cose multiplayer Laggerò Bla 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 Quindi vorrei fare cose In single player Quindi insomma C'è stato Kingdom Come Che si continuerà E vorrei portare E vorrei portare anche Far Cry 5 Però Se Ancora non l'ho comprato Quindi se Vi piace L'idea Anche di un Far Cry 5 In live Perché lo porterò Esclusivamente in live In alto a destra Vi lascio una scheda E insomma Votate Si o no E in base L'ho fatto anche Su facebook Che trovate tutto In descrizione Quindi insomma Vedremo un po' Quanti si Cose Eccetera E lo comprerò E la live Invece di farla Il 25 La farò il 27 Quando uscirà Quindi ditemi un po' Anche voi Ora andiamo qua sotto Che C'è un posto segreto Per una cassa Almeno che non l'abbino Già Spacchato il muro E sembra di si Perché ormai Tanto lo hanno scantuti E infatti L'hanno già aperto Degli scudini Tante volte Madonna Ci avevo creduto tantissimo Invece erano delle sbocche Siamo rimasti in 19 E io sono nella merda Perché comunque Non è che io abbia Chissà cosa Colpino pochi Armi Niente Eee Scudo Niente Si va Beh Si va Di Peggio In malissimo Poi la cosa Che mi piace molto Di Fortnite È che le partite Durano poco C'è PUBG Mamma mia Durano l'eternità Oh Oh Lì c'è uno Andiamolo a prendere Perché se riusciamo a farlo Senza essere colpiti E c'ha degli scudi In più Non sarebbe male Magari ci rimaniamo noi Probabile Dove sei? Eccolo lì Madonna 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 Eh puttana Ok scusa 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 Me ne torno indietro scusa Eh niente Lo sapevo lo sapevo lo sapevo Tutti con lanciarazzi cose Però lui aveva lo scudo eh 25 Perché gli avevo tolto tutto Eh niente dai quanto siamo Dai forse un altro si sta dai Ok Riecoci Allora Siamo da questa parte Io voglio andare nelle casettine Da sole Ci sono queste qua di sotto che mi piacciono Tanto E poi vi voglio dire Eh da questo video Insomma andate poi a vedere quelli prima E fate un po' la differenza dei microfoni Per vedere se si nota o no Teoricamente si si dovrebbe notare un botto Eh perché Dando via lo schermo Quello di prima per chi Non lo sapesse Ho dato via lo schermo il mio Witcher Predator Z35 Ho dato via quello Per prendermi tre schermi Perché mi fanno molto più comodo Allora questa è una lotta Da qui E ora Eh amico Oh Oh Eh beh Due Due ne abbiamo trovati Poverino Comunque si La differenza si dovrebbe sentire Perché comprando poi I tre schermi Mi c'entrava anche il microfono E ho comprato il mio microfono Che ero Eh Eh Che ero 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 Che ero